Nell'affrontare Nell'argomento delle flogosi pancreatiche è importante definire la nuova terminologia che è stata introdotta all'inizio degli anni 90 per classificare la pancreatite acuta. Si riconosce una forma lieve, dal punto di vista clinico, che corrisponde nell'anatomia patologica alla forma edematosa caratterizzata da edema del parenchima e a volte dalla presenza di piccoli focolai necrotici intratessutali. Esiste poi la forma severa che corrisponde anatomopatologicamente alla forma necrotico-emorragica in cui è presente necrosi del parenchima con coinvolgimento anche del grasso peripancreatico, per stravasso degli enzimi pancreatici nella loggia retroperitoneale e a fenomeni emorragici. Anche la terminologia delle complicanze della pancreatite acuta è stata recentemente ridefinita. Esiste una raccolta fluida acuta, la pseudocisti pancreatica, l'ascesso, la necrosi infetta, un nuovo termine che sta a indicare la sovrapposizione di un processo infettivo su un focoleio di necrosi parenchimale, lo pseudoneurisma legato all'erosione da parte degli enzimi pancreatici delle pareti di arterie contigue al pancreas, le alterazioni a carico dell'asse splenoportale contigo al pancreas, in particolare la stenosi e la trombosi. Qual è il ruolo della ecografia nella diagnostica della pancreatite acuta? È sicuramente l'indagine di prima istanza ed è utile nel monitoraggio del decorso di questa patologia. Consente di rilevare alterazioni a carico della ghiandola con un'accuratezza variabile a seconda delle casistiche dal 69 al 100%, consente di rilevare e seguire nel tempo le complicanze che abbiamo definito, consente di evidenziare segni ecografici di pancreatite cronica preesistente. Consente inoltre in taluni casi il rilevamento di fattori eziologici come ad esempio la litiasi biliare oppure segni di sofferenza epatica nei soggetti etilisti. Qui vediamo ad esempio un caso di pancreatite associato all'itiasi biliare, vedete nel contesto del dotto biliare comune del coleroco la presenza di questi tre grossi voluminosi calcoli. L'ecografia ha però dei limiti nella diagnostica della pancreatite acuta. Una visualizzazione adeguata del pancreas si ottiene a seconda delle casistiche con una pericolazione adeguata.